Il 2 febbraio di ogni anno si svolge la giornata delle zone umide. Tra le aree umide del sistema WWF in Abruzzo c'è l'OAS di Lago di Serranella, situata tra i comuni di Casoli Altino e Sant'Eusogno del Sangro. Sentiamo Sant'Ecericola del WWF. 51 anni fa si è data la prima grande importanza internazionale a queste che sono le zone umide che hanno un valore di fornirci degli importanti servizi ecosistemici e di tutelare quella che è la biodiversità di queste aree, che è legata a una biodiversità animale, tante specie di aironi, tante specie di anatre, di rallidi, di ardeidi, quindi l'abbiamo detto gli aironi, insomma ci sono anche gli svassi. Insomma è una natura ricca che qui viene conservata e oggi è proprio la sua festa. Questa è l'OAS di WWF Lago di Serranella e dal 1990 è una riserva naturale regionale, una delle attuali circa 28 in Abruzzo. Questa però è stata tra le prime nate nel 1990 perché è nata da un precedente vincolo che era quella di OAS di protezione della fauna per la provincia di Chiedi, dove qui la caccia è vietata dall'85. Nell'86 hanno affidato al WWF il compito di gestire questa area protetta e da allora in poi si è assistiti a una grande crescita di quello che è l'interesse naturalistico legato alle aree umide nella Val di Sangro, perché qui questa zona è frequentata da molti fotografi naturalisti, da tanti visitatori curiosi di natura, in particolare di quella delle aree umide, delle zone umide e qui ricordo, svolgiamo ogni anno anche da volontari del WWF l'International Water Bird Census, che è un censimento internazionale degli uccelli acquatici svernanti che si svolge di solito la seconda metà di gennaio. Per cui vi do il benvenuto in quest'area protetta e vi invito pure a visitarla perché è una piccola perla in un paesaggio che è purtroppo in trasformazione, qui però ci sono ancora forti valori di conservazione.